Si chiama Nadali all'Istintini, la rassegna di eventi che l'amministrazione comunale di Stintino ha organizzato per il periodo natalizio. Una serie di appuntamenti che inizierà il 23 dicembre e continuerà fino al 30 tra eventi, street food, concerti e pista di patinaggio. Un Nadali all'Istintini sereno e magico per tutti, grandi ma soprattutto piccoli e famiglie, ha detto la sindaca Rita Vallebella. E' questo l'invito che viene rivolto ai cittadini e ai visitatori e sarà bello trascorrerlo finalmente insieme nelle piazze e tra le vie del paese. Ci attendono diverse iniziative, ha aggiunto. Ci auguriamo che il programma e anche le installazioni, la pista di patinaggio, il palco e l'attenso struttura incontrino il favore e il piacere di chi deciderà di passare a Stintino per gli ultimi giorni dell'anno. L'amministrazione comunale, con la collaborazione degli uffici e delle associazioni coinvolte, che ringraziamo per la preziosa sinergia, ha voluto proporre un programma di eventi che coinvolgesse le famiglie e offrisse occasioni per stare insieme nell'atmosfera gioiosa delle feste natalizie, ha concluso Rita Vallebella. Aspettiamo tutti e tutte per un sano divertimento, per cogliere l'occasione di stare insieme come una grande famiglia e scambiarci gli auguri di Natale ed inizio del nuovo anno. È prevista per tutta la durata degli eventi un'attenso struttura fronte largo cala d'oliva per garantire lo svolgimento degli eventi al riparo d'eventuali piogge. Grazie.